Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi nuovo video, video di Yvro Rocher finalmente, è arrivato oggi il 21 Oggi è il 21 dicembre, finalmente è arrivato il pacco dopo tanto tempo, c'è quasi un mese 18 giorni, insomma si sa, ogni volta quando viene Natale sotto le feste c'è sempre questa problematica E il pacco è questo di qua, di questo catalogo E abbiamo il 3 di noi del 15, come al solito, c'è due buste, chiaro che hanno loro E poi mi hanno andato a ritirare 5 cataloghi che secondo me ormai sono sprecati, perché comunque ormai scadono il 27 Cioè ci sono tipo 6 giorni, non credo che in 6 giorni non riesce ad accucchiare capito che Poi c'è il 3 di noi di questo album Poi mi hanno mandato un 3 di noi del 14 che non capisco a che cavolo serve, avranno sbagliato E un altro catalogo natalizio, va bene, che poi è sempre valido fino al 27 Ma non sempre, tutti i prodotti sono sempre disponibili Ecco la fattura Allora, come i prodotti, mi è arrivato un bagno doccia da 400 ml della linea, diciamo, del catalogo natalizio Ecco, quindi se vi interessa prenderlo, fate, 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 cioè prendetelo A parte che sta a 3,95, l'ho preso io così da provare Perché visto che ne parlavano molto di questa vaniglia bianca, allora ero così tanto curiosa di provare Volevo dire una cosa, non so se questo trucco vi piace Non l'ho pensato per Natale, però, per Natale, cioè da fare Tipo in un video get ready, perché praticamente io non è che a Natale faccia chissà che cosa Comunque Ehm, poi ho ordinato anche io un altro da 200 ml Che questo stava sui 2,70 se non sbaglio Quindi non molto caro da 200 ml Da far provare a una cliente che mi ha acquistato due cose Quindi io la volevo far provare Poi invece per il viso, praticamente, ecco, io ho ordinato dei prodotti divisi Però forse loro me li hanno raggruppati Infatti mi hanno mandato una scatola Questa dorata, che ovviamente terrò io perché alla fine sono tipo prodotti che divisi Divisi tra i clienti Una semplice scatola Con la confezione, insomma, tutto questo E quindi, allora, mi è arrivato questo prodotto che praticamente è un Aspettate che leggo perché Praticamente è un detergente in gel della linea Elixir G1S Che è la linea, diciamo, di antinquinamento Ehm... Ecco, la linea specifica anti-età, praticamente Per andare a ristrutturare comunque il viso E a rendere molto più pulito Da questi agenti, insomma, ambientali Che ostruiscono il viso Comunque, mi hanno preso questo Che stava a 7,95, credo Sì Poi c'è anche la crema, sempre Elixir G1S Però sono tre clienti diversi, ecco Ehm... Questa è riparazione e piante inquinamento Ehm... Da giorno Da 50 ml Veniva sui 17,95 Poi mi hanno ordinato anche il contornocchi Che è un roll-on defaticante Che è molto molto buono, mi hanno detto Io non ne utilizzo contornocchi perché non mi piacciono Quando avverrà lo trovo Poi, hm... Sempre per quanto riguarda i capelli e il corpo Mi hanno ordinato il set Al cocco Che vi spiego cosa c'è Praticamente c'è Ehm... Da 200 ml Il latte corpo Molto buono Poi, eh... Il gel doccia da 200 ml Praticamente la cliente voleva quello da 29,95 Però non... Non mi era disponibile Quindi niente Quindi si è preso questa che stava a 14,95 Poi c'è la sua spugna E la crema mani da 30 ml Sarà molto molto buona E la saponetta da 80 grammi Anche questa Un odore veramente bello E poi c'è il bel cestino Molto carino Anche per mettere pennelli Cioè, non è un po' di tutto Ci va Invece ora Tutto capelli Prova Allora Una cliente mi ha ordinato Lo shampoo Questo è la Mamelis Da 300 ml Sì, 300 ml Questo è molto molto delicato E molto buono Infatti l'ho utilizzato E ve lo straconsiglio Perché Per chi va di fretta Non c'è bisogno neanche di mettere il balsamo Perché già Gli ammorbidisce da sé Ed è questo Che stava a 3,95 Poi ho preso questo Lo shampoo per capelli colorati Che a me fa l'effetto contrario Vabbè Ma lasciamo stare questo Cioè Io l'ho preso appunto così Per togliere tipo il colore Dopo Quando scolirà la tinta Diciamo per dare un tono più luminoso Ecco Però è indicato per i capelli colorati Ecco Poi Oddio Io invece mi sono voluta prendere Questo prodotto Per idratare i capelli Che è un siero praticamente Che fortifica e protegge i capelli Dalla rottura Con olio di jojoba Ricavato Dal processo 100% naturale Questa formula contiene ingredienti Di ogni giorno Non sappiamo Senza silicone Colorante E parabeni A applicare i suoi capelli Assotto umidi Comunque Me ne hanno parlato molto bene Di questo siero Che volevo provarlo Così quando tipo Devo andare a idratare i capelli Speriamo Che far suo lavoro Ed ha 100 ml di prodotto Per 7,95 Lo proveremo Poi invece Una cliente Mi ha ordinato I due set Che contenevano Le possettine Queste di qua Praticamente Quando ho 12,95 Potevate avere Lo shampoo Il balsamo E il siero Anzi Quando ho 12,95 Una fatta molto carina E la possetta Ovviamente Allora C'è Il set Liscio Praticamente Che questo è uno shampoo Che Praticamente Da un liscio Per 48 ore Quindi guardate a posto Perché è anche Anticrespo Quindi Non vi si gonfiano Per l'umidità Eccetera Io l'ho provato E personalmente Shampoo e balsamo Mi sono piaciuti tantissimo Invece il siero No Vabbè Questo è balsamo Ottimissimo Non sono i capelli Molto morbidi Nutriti Setosi Cioè Ti facilita tantissimo La piega E questo invece Il siero Che non Cioè questo A me non è piaciuto molto Perché A parte che ne bisogna Applicarne poco Perché a me Faceva un effetto Bruttissimo Di capelli oleosi Tipo sporchi Cioè me li ingrassava parecchio E poi infatti Non l'ho utilizzato più E poi L'ultimo set Che mi è preso sempre Con la pochette E tutto è questo Praticamente Per i capelli ricci Quindi c'è Sempre il balsamo E lo shampoo Scusate All'estratto di baobab Praticamente Poi c'è Il balsamo E poi L'ultimo L'ultimo prodotto È il Il Lo spray modellante Per capelli ricci Da 150 ml Ecco perché Era più grande E niente Questi Sono tutti i prodotti Spero che il video Vi sia piaciuto E ci vediamo Al prossimo video Sperando sia quello Dell'Avon Non lo so Vedremo E niente Al prossimo Ciao Ciao